Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale, questo è Cody che sta salutando la nostra vicina di casa che sta uscendo e che odia alla follia e vabbè, lasciamolo così allora, vi dicevo ben trovati sul canale da una Eli molto austera, coi capelli grigi con qualche sfumatura azzurra ma poi pian piano lavandoli andrà via mi piace molto, sono contentissima di aver fatto questo colore è stata un'impresa per la mia parrucchiera perché i miei capelli non si decoloravano e quindi è stato veramente arduo e poi alla fine appunto con la tinta e con uno shampoo tonalizzante è venuta questa sfumatura poi chiaramente si, come si dice, andrà via con i vari lavaggi e io con delle maschere tonalizzanti quindi cercherò di mantenere il grigio e poi vabbè, così comunque, niente, mi piace un sacco ero molto agitata, avevo paura che mi venisse fuori una cosa obbriosa invece sono contenta del risultato è piaciuto a tutti non ho dormito stasera, ieri, stanotte perché avevo paura che mia mamma mi dicessi sa che cosa invece vabbè è stata abbastanza moderata nei suoi giudizi e poi vabbè, va bene, cioè è un colore di capelli, non è niente di particolare comunque io sono molto contenta video oggi di prodotti beauty finiti perché anche qui come vi dicevo l'altro giorno guardate il taglio, sempre un bel carré corto, mi piace, mi piace un sacco video dei prodotti beauty finiti di questi due mesi estivi perché avevo il bagno stracolmo di cose da buttare e dovevo finirle cioè dovevo buttarle e dividere tra la carta, la plastica e quali flaconi riutilizzare e quindi partiamo subito perché sono tantissimi allora questo tonico per il viso, My Tonic della Mia penso si dica così io l'ho acquistato su My Qui Beauty mi è piaciuto davvero davvero tanto ha un costo molto contenuto mi pare sui 9 euro aspettate perché ho la scheda qui perché non mi ricordavo più gli ingredienti perché è scritto in polacco e se l'inglese non lo so il polacco figuriamoci e costa 9,95 è un tonico molto idratante tonifica, idrata la pelle, rinfresca io questo l'ho messo in un vaporizzatore che aveva una vaporizzazione molto sottile e quest'estate l'ho finito praticamente perché rinfresca tantissimo molto leggero si assorbe subito ha un profumo delicatissimo fiorito se non mi ricordo male si, proprio molto basico non è fastidioso ed è buonissimo è anche a mio parere leggermente opacizzante riduce un po' il polio comunque aiuta a tenere lontano il lucido della pelle soprattutto per una pelle mista grassa come la mia quindi mi è piaciuto potrei anche ricomprarlo sicuramente si scusate ma io mi vedo dentro e mi sembra un po' strana perché dal biondo bianco al grigio è proprio un po' vedete qualche riflesso azzurrino perché sembra un po' la fata turchina però vabbè è così sono molto signorile va bene ho finito e anche qui andiamo veloci perché non abbiamo bisogno di presentazioni di odorante della DAV sono sempre ottimi in tutte le loro profumazioni questo era alle bacche accai berry bacche di accai mi sbaglio sempre bacche di accai e buono buono una profumazione dolcina molto estiva perfetto questo tiene tutta la giornata e credetemi io ne sono la prova vivente e ci siamo capiti quindi ricomprati si ne ho in scorta tantissimi quando li trovo in sconto perché sono abbastanza cari li compro e li ricompro e e va bene così questo è un residuo dell'anteguerra di come vi dicevo nel video scorso abbiamo svuotato la casa delle vacanze dermomed mi è piaciuto tantissimo era un doccia shampoo io l'ho usato soltanto come bagnoschiuma in doccia ne avevo ancora più di metà l'abbiamo finito quest'estate mi è piaciuto un buon profumo fresco chi c'è qui? qualcuno che sta cercando Cody vieni qui vieni vieni che ti facciamo vedere vieni su qua vieni vieni su dai che salutiamo vieni guarda qua vieni su saluta vieni va bene allora non far casino per piacere un profumo unisex infatti dice novità sport non so neanche se esistono più questo ve lo faccio vedere proprio come residuo storico e finalmente l'abbiamo finito perché non vi facevo mai vedere i bagnoschiuma e avrete pensato che la ilia e tutta la sua famiglia non si lava ma io ci metto tantissimo consumarli non so voi quanti li usate perché ne basta poco fa un sacco di schiuma e poi io uso quelle spugne di cicciose di plastica che basta pochissimo detergente e viene una schiuma bella perché alla fine non è che mi serva poi tanto poi figuriamoci d'estate ok facevo tre giorni si rifacciamo blollo d'estate facevo tre volte al giorno la doccia mattina mezzogiorno e sera però qualcosina se abbiamo consumato ma mica tanta roba e ci laviamo vabbè questo comunque era un residuo finito non so se esiste ancora questa marca esiste ancora non so se questa profumazione c'è però buoni li ho visti li ho visti in qualche supermercato finito questo scrub rifaccio non è proprio uno scrub è un esfoliante body alla granita fleur de coton de coton fleur de coton della marca sefora questo era il mio ecco un profumo un po' troppo fiorito cipriato caramelloso che non mi ha fatto infazzire però il costo era limitato l'avevo comprato una delle prime volte che sono andata da sefora ma come vi avevo già detto non mi piace andare in queste grandi cattine soprattutto da sefora lecco perché mamma mia sembra che stanno aspettando solo te per entrare per vendere mi fanno andare in ansia non riesco a scegliere i prodotti comunque un'esfoliazione molto molto delicata io lo uso prima di usare il bagno schiuma e questo faceva anche un po' di schiumetta si poteva probabilmente usare anche soltanto questo molto molto delicata però comunque sfogliava e sfogliava bene una mousse una gelatina ecco una gelatina come la gelatina di albicocche tanto per intenderci con dentro dei granellini sottili comunque mi è piaciuto non lo ricomprerò perché sto provando degli scrub in olio o sia di sale che di zucchero che mi piacciono molto di più che sono più intensi e per la mia pelle de chat come dice la mia mamma va bene quella quindi ok poi finiti i soliti dischetti di Abilea lo sapete che io non ho una marca preferita a quello che trovo in sconto lo compro l'importante che siano belli grandi e che non si sbaglino non si spacchino questi sono ottimi c'è anche una cucitura sul bordo che li mantiene uniti quindi perfetti assolutamente perfetti poi questo è il deodorante preferito ed unico di Paolo vedrete sempre solo questi il DAV original che dire l'abbiamo già detto prima ottimo fresh and clean intimo ph 5.5 anche questi quando li trovo in offerta comunque li prendo hanno un costo veramente molto molto irrisorio sono buoni un profumo di timo e propoli un profumo molto molto fresco molto delicato non danno nessun tipo di problema quindi questi poi io compro le ricariche e tengo il dosatore originale in modo che va bene costano anche meno le ricariche buono lo ricompro sì quando sono in offerta li ricompro felcio azzurra secondo me anche questo perché io non mi ricordo di averlo comprato ultimamente vado su altre novità essenza italiana estratti naturale di lampone mora del trentino e olio di mandorle anche questo è un residuo bellico non so se esiste ancora non ho effettivamente guardato un buon profumo di lampone sì molto un profumo un po' pungente un po' fresco dei frutti rossi mi piace e finito anche questo poi altro scrub corpo con yogurt e fragola questo è stato regalato dalla mia carissima amica Betta alla Lucy quando ha compiuto gli anni insieme ad altri prodotti della bioteca italiana e la bioteca italiana è un'azienda che sto scoprendo piano piano sto comprando dei prodotti li sto provando sono veramente ottimi prodotti con un rapporto qualità prezzo eccellente per me eccellente questo è buonissimo sa proprio di yogurt lo yogurt fresco alla fragola e anche il colore era così come vedete Lucia l'ha proprio consumato fino all'ultima goccia gli è piaciuto tantissimo infatti ne abbiamo già ricomprati altri ci sono mi pare in tre varianti all'emore questo alla fragola tre o quattro varianti poi ce n'era uno arancione che non so se era l'arancia o la maracuia o i frutti esotici comunque sono buonissimi veramente buonissimi e anche per fare per esempio dei pensierini a delle ragazze e così sono ottimi perché vediamo se dice qualcosa di più e io non vedo più niente mi è diminuita anche la vista 98% di ingredienti naturali e non vedo nient'altro ragazzi il vasetto è plastica 100% riciclata e per il resto scusate ma vado a devo farlo uscire questo se no rompe le palle tutto il video ci vediamo dopo sono ritornata allora dovevo andare a salutare i suoi amici cani che vengono fuori e che cominciano ad abbaiare ma come mi piacciono mi piacciono un sacco va bene andiamo avanti finito questo struccante bifasico con estratto di malva e altea penso si dica così struccante bifasico per gli occhi si è staccata praticamente tutta la confezione è della linea botanica e l'avevo comprato all'Eurospin questa è una linea che c'è ancora devo dire che mi è piaciuto era secondo me un po' tanto oleoso e bisognava shakerarlo bene però vabbè il prezzo è veramente contenuto quindi secondo me struccava bene non bruciava aveva veramente molto olio all'interno per struccare però poi passavo il detergente oleoso o il e no no detergente oleoso e detergente schiumoso quindi poi veniva via tutto direi che si può che si può comprare se cercate un buono struccante per occhi ad un prezzo contenuto queste ormai ve le faccio vedere ma così tanto perché lo sapete che sono le mie preferite ne ho trovata un'altra coreana che è quasi migliore ma l'ho finita a settembre no l'ho finita sì l'ho usata settimana scorsa quindi rientrerà nei finiti di settembre e poi ottobre vedremo comunque questa è sempre buonissima super idratante con acido ialuronico e camomilla vabbè queste sono miracolose quasi finito altro residuo bellico però ho usato tanti detergenti erano già erano già iniziati della Vidal un profumo molto intenso probabilmente anche perché era lì già tanto tempo comunque il Pau sicuramente era andato oltre ma erano buonissimi il profumo era buono la consistenza anche detergevano benissimo quindi va bene cioè probabilmente per degli ingredienti per dei prodotti che hanno molti ingredienti naturali pochi conservanti il Pau ha ragione di esistere su questi forse anche no insomma però questa è la mia semplicissima opinione ragazzi mica che poi andate a dire che sono stata io a dirvi che si può aprire tutto e usare 150 prodotti però questo è quello che penso io un bagno doccia buono molto cremoso la Vidal è una marca conosciutissima che è sul mercato da tantissimi anni quindi va bene anche questo molto buono questo invece bagno doccia rigenerante assolutamente solo del Shurmauri lui usa solo i prodotti della Conad adesso l'ho obbligato a usare anche gli altri 4 bagno schiuma che ci sono in doccia che io sto provando perché altrimenti lui usa sempre e solo questo e questo gli dura se non un anno quasi quindi però questi sono veramente sono veramente buonissimi profumazione che è una cosa spettacolare con estratti di verbena e lime senza coloranti siliconi peg e oli minerali dermatologicamente testato i prodotti della Conad di questa linea sono buonissimi noi li usiamo spesso i prodotti lavanti le saponette e tutto quello che riguarda diciamo l'igiene personale sono buoni gli shampoo sono ottimi Paolo usa solo questi comunque questo si lo ricomprerò sicuramente si quando lo trovo e quando avrò finito la mia scorta centenaria altro residuo bellico non ve lo faccio neanche vedere perché non so se esiste questo l'avevo al lavoro e diciamo che è dal lavoro da tantissimi anni nell'ufficio vecchio dove eravamo poi noi utilizzavamo le ricariche di vari saponi e ritenevamo il bollettino quindi adesso abbiamo cambiato ufficio abbiamo comprato dei saponi nuovi e questo lo buttiamo e via non si va a fare così poi finita garnier acqua micellare pelli spente non uniformi strucca deterge illumina e uniforma senza risciacquo non è vero ma ormai lo sappiamo ecco mi chiedo ma con tutta la gente che continua a dirgli a tutti i produttori di acqua micellare che va risciacquata ma perché non tolgono senza risciacquo garnier sei un ottimo brand togli senza risciacquo metti assolutamente risciacquare così tutti siamo contenti e non dobbiamo ripeterlo ogni volta quando facciamo i video no? arricchito con vitamina C ipoallergenica viso occhi e labbra è ottimo io quest'estate ho usato solo ed esclusivamente per detergermi come primo step l'acqua micellare poi usavo un detergente schiumoso favoloso illuminante lascia la pelle idratata ha un profumo delizioso di agrumi sì ma anche di ma sei ancora tu Codi? chi è che c'è? qualcuno che passa? buonissimo lo ricomprerò sicuramente sì l'anno prossimo perché ne ho un po' di scorta ora schiuma da rasatura balea anche qui non c'è bisogno di presentazione profumo ai frutti rossi ottima la usiamo sia io che Lucia ci piacciono tutte e queste le compriamo e ricompriamo via finito questo dentifricio conad sono sempre tutti molto buoni voi vedete principalmente i conad poi ci sono anche altre marche alcune volte li buttano addirittura e non mi liasciano quindi quando quando apro io il nuovo prodotto tengo la scatola per far vedere che l'ho finito altrimenti gli altri se li buttano adesso ho fatto vedere a tutti dove devono buttare i prodotti finiti perché io li devo far vedere e spero che si ricordino comunque questo buono fresco al al profumo di menta sono sempre sono sempre pronto finito da Lucia questo bagno doccia della Balea mamma mia al profumo di cookies allora questa estate mi sembrava un po' nauseabondo quando lo lo sentivo anche che aveva fatto la doccia perché con il caldo questi profumi così intensi coccolosi e latte mi davano un po' fastidio ma adesso che è arrivato il freschetto mi viene voglia di fare i biscotti anzi li faremo questo buonissimo ottimo e quando ci sono li compriamo finito questo odorante al cocco senza alluminio buonissimo durava per me le 5-6 ore abbondantemente dopo è vero come ho detto prima d'estate si fanno molte più docce ci si rimette ogni volta che ci si lava il deodorante quindi però comunque diciamo se uno sudava non faceva puzzare quindi ottimi 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 non sono piaciuti finiti questi due micro doccia crema uno al latte e miele e l'altro aspettate che non vedo niente al ci sono gli occhiali che fanno al profumo di fiori di mandorlo e magnolia questi lucia se li ha portati nei vari campi scout campeggi vacanze sono molto carini sono pratici si consumano velocemente e si possono portare nello zaino che era la sua valigia ora finita per me questa crema anticellulite azione drenante della seysol body and beauty gel effetto freddo ragazzi una crema favolosa che vi congelava le chiappe e le gambozze io a parte l'effetto per l'anticellulite che sappiamo benissimo che non fanno miracoli queste creme aiutano sicuramente a levigare a rendere la pelle più morbida a rassodare però quello che mi ha aiutato con queste scusatemi è la prima volta che continuo a toccarmi i capelli ma insomma che mi ha aiutato quest'estate è stato quello di camminare tanto però c'è l'effetto ghiaccio che dà veramente rinfrescante ma dura tipo 45 minuti buonissimo buonissimo ne ho finita un'altra che vi farò vedere il mese prossimo ma per me è stata veramente una scoperta meravigliosa e la ricomprerò sicuramente sì poi finito questo integratore di equilibra vabbè perdita di peso no ok drenante sì l'avevo visto dalla mia amica Simona Beauty Passion ciao Simo erano scontati quando l'ho comprato e ne ho un altro che sto finendo e li ho usati perché d'estate si beve tanto ma l'acqua alla fine mi stufa e quindi per dare sapore all'acqua ed effettivamente aveva un'azione drenante questo l'ho riscontrato anch'io quindi se sono in offerta ogni tanto non ne faccio tantissimo uso preferisco le tisane della Pompadour o l'altra marca che compro sempre non me la ricordo più comunque io compro online le scatolone gigantesche con dentro tutte le tisane e me le porto sia al lavoro o anche quelle a freddo però devo dire che questa è stata buona buona se dovessi avere l'occasione ancora di trovarla in sconto lo ricomprerei per l'estate e l'inverno li uso ottimo 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 il deodorante neutro roberts fresco zero sali minerali zero macchie è vero questo era il bergamotto e zenzero una profumazione piacevolissima molto fresca la trovate al Tigo Tao o in tutti gli altri supermercati io al Tigo Tao li trovo spesso in offerta e mi permetto di dire per la mia umile esperienza che lo paragono al DAV come durata e come profumazione non macchia è vero non macchia nessun tipo di maglietta non lascia aloni e sono veramente buonissimi mi piacciono tanto ne ho comprati parecchi di questi via poi andiamo a un po' di maschere ne abbiamo fatti una marea allora questa maschera è favolosa è della Frudia le maschere della Frudia sono tutte veramente veramente buonissime ricchissima di siero questa si chiama Snowy e l'ho messa in frigorifero perché l'ho usata quest'estate quando faceva veramente veramente caldo un effetto rinfrescante rimpolpante che sembrava quasi che avessi fatto un massaggio tirante sulla faccia veramente veramente ottima le maschere della Frudia sono tutte favolose vi consiglio di provarle queste invece le avevamo comprate se non ricordo male al DM questa è una maschera al latte verde l'ho usata Lucia ha detto che era molto buona ecco quelle cose che usa lei non è che più di tanto ve lo posso dire io questa è la maschera invece che mi era stata inviata da Stylevana Stylevana vi ricordo che se vi interessano i prodotti del sito di Stylevana trovate lo sconto sotto nell'info box abbiamo lo sconto del 10% che poi aumenta al 15% quando l'importo dell'ordine aumenta ma tutte le informazioni le trovate sotto questa la trovate sia singola che nei pacchi da 10 e sono favolose tutta questa linea verde io la sto provando è meravigliosa 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 mi piace tantissimo soprattutto per chi come me ha la pelle grassa che tende ad ungersi durante la giornata e quindi ha bisogno di un controllo di sebo magari anche sotto il trucco questa maschera e tutta la linea di frudia verde anche questa cremina qua è favolosa provatela perché è veramente buonissima finita questa maschera idratante e bilanciabile balancing non so come si dica questa della solita marca che non vedo e un e un e un e un e un aspettate che dico si vede un po' meglio sì comunque queste le avevo comprate alla Lucia per il suo compleanno e sono sono buonissime tutte queste maschere sono buonissime le avevo comprate su Amazon ma ci sono anche sui siti coreani e anche su Stylevana ah eccola qua questa è la marca io non mi azzardo a ripeterla e questa è al miele favolosa favolosa provata invece in vacanza e non mi ricordo se è l'unica o se ce ne sono altre questa che avevo comprato al l'Eurospin ed era stata segnalata dalla mia amica Elisabetta R e non ricordo se anche da qualcun altro io l'ho usata un giorno che avevo preso tanto sole nonostante la mia protezione 50 quindi avevo la faccia che era un peperone e mi ha calmato il rossore della faccia l'ho usata quando ho fatto la settimana in montagna quando abbiamo fatto gli acquisti di skin care e le maschere qualcuno alla sera insieme più che altro le ragazze perché le donne non si sono prestate alla serata skin care mannaggia quindi questa comunque buona ne ho ancora 3 o 4 di scorta e le terremo ho questa maschera al succo di melone l'ho usata io della balea ottima un profumo di melone fantastico ecco di queste maschere non mi piace tantissimo il tessuto però devo dire che per il resto e soprattutto per il costo che hanno sono veramente ottimi poi questa una mousse doccia depilazione e crema idratante allora mousse doccia si depilazione si idratazione no dopo comunque quando la usate dovete mettervi la crema un profumo iris e frutti rossi molto molto maschile è della clio sun come vi dicevo una mousse abbastanza corposa piacevole un profumo abbastanza maschile non molto abbastanza maschile che infatti questa ha utilizzato anche Mattia quando veniva a farsi la doccia nella nostra doccia comoda perché appunto vi potete detergere e anche depilare il prezzo era veramente contenuto quindi se ci dovessero essere ancora c'erano soltanto due o tre profumazioni però se ci dovesse essere ancora la comprerei poi finito questo bagnoschiuma della bioteca italiana bagno doccia con estratto di cocco bio ragazzi un profumo di cocco meraviglioso era molto molto cremoso buonissimo 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 l'avevo comprato per regalarlo e poi me lo sono tenuto io va bene comunque erano molto carini anche così da regalare erano confezionati in una scatola di cartone molto carina molto molto belli la bioteca italiana come vi dicevo sta facendo dei prodotti che secondo me sono top la lucia mi ha detto assolutamente di recensirvi questo detergente che io penso non esisti più si chiama saponello bagnoschiuma shampoo reperto storico dell'infanzia di lucia che avevamo dimenticato nella nostra casa di vacanze in montagna e lei quando l'ha finito quasi quasi piangeva piangeva perché nella casa di montagna non ci andiamo più e piangeva perché aveva finito il saponello francamente io non so neanche se esista comunque era un bagno doccia che ha detto che sa principalmente di latte quel profumo che sentite sulla pelle dei bambini quando gli fate il bagnetto quando sono piccoli ecco questo è un profumo di bambino un profumo di bambino buonissimo ha detto che faceva una bellissima schema anche qua perché secondo me era mega concentrato comunque finito e magari se lo vorrà tenere per ricordo finiti altri dischetti di Avilea questi erano dei quadrotti ecco non mi sono piaciuti tanto ma ho sbagliato a comprarli erano i maxi quadrotti pretagliati non che non mi sia piaciuto il dischetto non mi è piaciuto perché erano pretagliati dovevo staccarne a mano come si dice quindi sicuramente non li ricomprerò ma per quel motivo lì non perché il materiale non mi sia piaciuto finito dentifricio della Helmex Sensitive Professional questo è il dentifricio preferito di Lucia nella versione da viaggio e quindi questo se l'è portato al Campo Scout questi sono sempre veramente molto buoni e se sono in offerta li li compro finito questo Ananas Cell Hydro Scrub dall'azione levigante di Erbolario allora non so cosa dire di questo Hydro Scrub allora era uno scrub che aveva un profumo molto erbaceo quasi di alga quindi non mi piaceva in nessun modo l'avevo comprato in quelle offerte che ogni tanto ti arrivano per mail con 7,99 euro e compri 4,5 prodotti francamente scrubava a zero cioè più che scrubbare c'era dentro ogni tanto una puntina di qualcosa di marrone non si capiva non lo so non ho capito neanche molto il senso di un Hydro Scrub dall'azione levigante anticellulite perché poi comunque si lava questo ve lo faccio vedere per un'ora di condivisione ma sicuramente non lo ricomprerò più non mi è piaciuto poi avevo un profumo che avevo un odore che non era proprio molto buono questo ve lo faccio vedere nel senso che non che l'ho finito che l'ho comprato quindi lo sto usando ma butto la scatola il rasoio in intuizion 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 vabbè che l'è con le ricariche con la tessina che si stacca con le ricariche a 5 lami ragazzi tanta roba tanta roba depila in maniera spettacolare profonda sembra che appunto la gamba depilata duri per più giorni lascia la pelle liscissima ottimi secondo me ottimi questo non costava neanche tanto l'avevo trovato in offerta a 6 euro qualcosa del genere poi ho preso la ricarica delle tre lamette comunque questi durano una vita direi ottimo se non avete mai provato questo tipo di rasoio usate il rasoio normale sicuramente la differenza c'è tanta roba tanta tanta roba poi finito questo Argan e Jojoba Neutro Roberts questo era un altro residuo bellico mi è piaciuto da morire sarà perché era concentrato sarà perché era lì da tanto tempo quindi mi ha lasciato la pelle morbidissima un profumo favoloso che se lo ritrovo lo ricompro e quando io utilizzavo questo bagnoschiuma non mettevo la crema corpo mamma mia un profumo meraviglioso buono 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 spero ci sia ancora anche se magari con un'altra etichetta o perché mi è piaciuto mi è piaciuto tantissimo buono davvero tanto e non utilizzavo la crema dopo che lo utilizzavo finita la maschera delle serie la maschera per capelli della serie che ho regalato alla Lucia molto carine come vi dicevo sono anche belle da regalare trovate a Tigota ma le trovate anche online vabbè ok due minuti di silenzio idrabomb favolosa ottima anche questa è sempre della serie di quelle che ho regalato alla Lucia sono davvero stupende buone fateci un pensierino finito il mio garnier skin active vitamina c mi è piaciuto proprio proprio tanto l'ho utilizzato tutto aveva un profumo delizioso vi dirò anche che con tutti i prodotti che ho utilizzato quest'estate allora mi era uscito un bubone qua in alto sono andato dal medico perché pensavo fosse un neo che si fosse ingrossato ce l'avevo sempre avuto e lui mi ha detto di non preoccuparmi che era comunque un addensamento di pelle beh io pian piano utilizzando i miei prodotti sfoglianti e i prodotti alla vitamina c e i prodotti con l'acido glicolico non c'è più si è staccato è venuto via non c'è più niente sono ritornata dal medico il medico mi ha detto perfetto va bene così anche perché ho l'appuntamento della visita dermatologica ok alle calinde greche perché qui è veramente assurdo non si trovano non si trovano appuntamenti ma neanche nel giro di sei mesi quindi vabbè visto che la cosa non era grave cioè non c'era niente di particolare io sono ritornata le ho chiesto se potevo lasciar perdere la visita e quindi va bene così comunque questo mi è piaciuto tantissimo l'anno prossimo se dovessero esserci ancora lo ricomprerò sicuramente perché costa poco fa il suo dovere antimacchia comunque dava luminosità alla pelle lasciava la pelle idratata non unta aveva un buonissimo profumo di agrumi frutti gialli mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto tantissimo brava Garnier per me ho finita questa acqua micellare che all'inizio non mi piaceva poi io non so se la mia pelle è cambiata se quest'estate era più resistente che cavolo ne so comunque all'inizio quando io l'ho usata mi bruciava tantissimo l'ho lasciata lì due o tre settimane e poi ho detto no vabbè voglio riprovare e quest'estate dove io praticamente non mi sono mai truccata devo dire che mi è piaciuta ha fatto il suo dovere naturale è vero non la ricomprerei ma non perché non mi è piaciuta perché ce ne sono altre che voglio provare un profumo delicato melograno non è che io lo sentissi tantissimo anche perché comunque è un prodotto non vedo niente ragazzi miei vabbè non vedo proprio niente ci vuole la lente di ingradimento comunque deterge strucca e tonifica ora è di Uta è prodotto da Uta che è un'azienda abbastanza famosa italiana stavo guardando se rispetta l'ambiente c'è scritto se c'era qualche certificazione perché lì c'è una certificazione ma io non la vedo vabbè comunque non lo ricompro ma non perché non mi è piaciuto non lo ricompro perché ho tanti altri prodotti da provare e altri prodotti che voglio provare però all'inizio il mio parere era negativo e invece si è positivizzato come vi dicevo altro profumo altro deodorante della Neutro Roberts Deo Spray Alte Verde e Lime ragazzi questo faceva la parte del profumo nelle giornate troppo calde in cui neanche i profumi detto da me che io i profumi li metto per andare a letto per fare i mestieri per stendere per andare in ufficio questo faceva la parte del profumo era molto fresco il tè si sentiva il lime è anche veramente un deodorante pazzesco mi è piaciuto tantissimo buono 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 finita la mia saponetta che avevo trovato in offerta a 0,99 alti gotà di Green Pharmacy alla lavanda con gli oli essenziali buona 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 sapete che io la uso solo per lavarmi le ascelle invece il Paolo lo usa per tutto finito il mio siero alla vitamina C di Giada Cosmetics per me questo faboloso costicchia costicchia un pochino ma ragazzi che buono l'anno prossimo sicuramente lo ricomprerò se non esce qualcos'altro che devo comprare mi è piaciuto tantissimo dava una luminosità immediata immediata vediamo se è rimasto qualcosa ah qualcosina si è rimasto qualcosina qualcosuna un colore leggermente aranciato ma che poi non si vede sulla pelle a me il profumo fa impazzire tantissime persone invece ho sentito che come recensione la cosa principale che bocciano è il profumo a me il profumo di questo siero e del tonico alla vitamina C che sto terminando cioè terminando sto terminando di usare il tonico non l'ho terminato perché c'è dentro un botto mi piace mi piace davvero tantissimo ha quel profumo un po' molto particolare quasi da officina farmaceutica non so come dire a me mi piace tantissimo e quindi aiuto ve lo consiglio e sicuramente l'anno prossimo lo ricomprerò perché è per me ottimo finita un'altra delle maschere che vi dicevo della frudia favolosa veramente favolosa ottima finito questa aspettate correttore tonalità argento vivo l'avevo usata l'altra volta quando avevo i capelli biondo platino più o meno e sicuramente ne ho escorta e adesso le vorrei provare per questo grigio signora grigio blu fatina dei desideri la fata turchina e sono ottimi secondo me hanno una qualità molto maggiore rispetto al loro prezzo oh un'altra finita quindi vedete che mi piacciono veramente tanto mi sono piaciute proprio tanto ho finito questa mist all'aloe vera favolosa questo era un prodotto questo è un prodotto mi pare coreano made in corea che avevo acquistato all'inizio su YesStyle ma proprio ottima questa come l'altro come il tonico che vi dicevo polacco la utilizzavo per rinfrescarmi perché io non non mi truccavo non mi sono truccata quest'estate questa la utilizzavo dopo il tonico ed è favolosa idratante lascia la pelle morbidissima vi basta un siro o se non volete neanche il siro perché l'estate è troppo pesante una crema levate anche la crema e mettete solo la protezione soprattutto se trovate una protezione come quelle che sto provando io che sono coreane e sono favolose vi basta veramente poco questa vi dura una vita eterna ve lo dice una che si spruzza ovunque ed è ottima ah non vi ho detto la marca vediamo scusate non ci sono più la ferme aloe vera il resto leggetelo da voi perché poi c'è sempre qualcuno che ride quando dico le mie pronunce ottimo veramente un ottimo prodotto finito questi patch di hidrogel paz paz pez non so come si dice patch comunque per gli occhi con l'acido ialuronico l'estratto di magnolia e di vitamina E sono favolosi avevo tenuto anche la custodia ma vabbè comunque sono ottimi stupendi c'è tantissimo siero e anche se qua dice di non farlo io l'ho riutilizzata per due volte di seguito perché non erano rovinati il siero c'era mi direte ma che palle con questi capelli e mi è piaciuto mi sono piaciuti tantissimo ne ho altre 3 o 4 confezioni perché ne avevo sentito parlare da Elisabetta bene da Elisabetta R e infatti lei ha sempre ragioni ottimi 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 mi sono piaciuti un sacco poi questo che cos'è una maschera al mango è alla maracuia questa è sempre della balea l'ha fatta la Lucia non so dirvi un profumo di frutta esotica ma sicuramente vado certa sarà buonissima finito la mia calmilene extreme linea linitiva per pelle secca fragile è allergica crema palpebrale e dopo tutti questi mesi che io ho usato la crema palpebrale di vari tipi vi dico che non ho più bisogno della crema palpebrale perché le mie palpebre dopo tutte le creme e i trattamenti che ho fatto si sono normalizzate si dice così e al momento al momento perché poi bisogna vedere non utilizzando nessun trucco sugli occhi d'estate probabilmente sono anche sottoposte a meno stress l'ho finita e non l'ho più riutilizzata quindi ha fatto il suo dovere questa è un'ottima crema al momento va bene così ultimo ma non per importanza l'unico prodotto di beauty che la Eli ha finito e anche qui parliamo di reperti dell'antiguerra io ho tantissimi rossetti tanti balm tanti come si chiamano luci da labbra colorati i rossetti mi piacciono un po' meno questi invece sono morbidi allora questo era uno di essence io li ho quasi tutti di essence perché mi piacciono tantissimo secondo me è un ottimo rapporto qualità prezzo qui praticamente come vedete non ce n'è più ne ho tre di queste tipologie purtroppo non ci sono più li ho comprati tantissimi anni fa qui ha il pau e altro che è scaduto ma a me il profumo è ancora buono la cremosità è ottima i colori mi piacciono tantissimo sono quelli che non sono troppo invadenti sulle mie labbra e che vi devo dire questi per me sono ottimi adesso pian pianino stiamo finendo anche tutti gli altri se non ne avete mai provati i rossetti e i balm i burro di cacao colorati i lip gloss della essence io vi consiglio di farlo perché sono tutti 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 buonissimi veramente buonissimi bene ragazzi miei e ragazze mie io ho finito con tutta la scorta cosa vi devo dire sto pensando a quale video prepararvi per la prossima volta se volete vedere gli acquisti del Tigota se volete vedere altri acquisti se volete sentire parlare di profumi probabilmente il prossimo video che farò sarà dei miei profumi che nonostante l'estate sia finita sto utilizzando ancora perché secondo me sono adatti comunque per introdurci all'autunno che è appena iniziato io vi ringrazio spero di non avervi spaventato con la mia criniera da vecchia signora o da professoressa di matematica perché a me mi stavano sulle palle le professoresse di matematica perché io non me lo cabrava in matematica nonostante adesso faccia il lavoro della ragioniera ma perché me la spiegavano male dai cioè francamente e niente spero di avervi fatto un po' di compagnia di avervi dato qualche input per i prossimi acquisti a parte i reperti storici che probabilmente non ci saranno più vi ringrazio vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video grazie e tanti tanti bacioni ciao